ma tu l'avresti ingaggiato Fabio Volo no io no poi per carità voglio dire Antonio Toriano che è un bravissimo responsabile della lettura del Corriere poi sai il Corriere è il mio giornale quindi però io capisco cioè io non sono snob dal punto di vista culturale non sono mai stato nel senso che io ho letto Fabio Volo e mi sono molto arrabbiato l'ho stroncato ma non l'ho stroncato perché era Fabio Volo ma perché nel genere rosa para femminile scrive male allora ognuno deve saper fare il proprio mestiere cioè non è che uno non è che devono essere tutti Roberto Calasso c'è Calasso c'è Citati, c'è Eco e c'è Fabio Volo Fabio Volo è uno che vende milioni di copie sono contentissimo per lui non sono per niente invidioso cioè sì però sono contento che le vende ovviamente siamo tutti invidiosi però il problema vero è il livello cioè se tu stai nel livello popolare devi scrivere dei buoni romanzi popolari e se non è un buon romanzo popolare sembra scritto in una maniera assurda io mi arrabbio ma per quello non perché mi aspetto da Fabio Volo che scriva i Promessi Sposi perché voglio dire non lo scriverà mai ed è giusto che non lo faccia Senti ma secondo te Vale ti ricordi quando c'erano i tre tenori che si diceva ma state volgarizzando la lirica e la risposta era ma così noi la portiamo a milioni di persone che altrimenti non ne fruirebbero non la conoscerebbero nel caso di Volo o di altri esempi che si possono fare anzi se ne vuoi fare qualche altro nome se non vuoi fare nome fai i cognomi non sembra non ci sia un accanimento diciamo così ecco appunto vale la stessa cosa? dipende guarda nel caso dei tre tenori valeva come vale per esempio cioè quando Baricco faceva i programmi televisivi che pepolarizzava una serie di temi era molto bravo e faceva bene a farli perché poi comunque qualcosa ti rimaneva se tu mi dici allora però e qui c'è un dubbio che io ho cioè 50 sfumature di grigio, di rosso e di giallo, di verde quelle che sono se questo porterà poi dei lettori alla letteratura io penso di no perché è troppo brutto cioè voglio dire infatti mi spiegava Romano Montoni che è stato il fondatore delle librerie Feltrinelli in Italia che è un uomo straordinario che l'ho visto l'altro giorno che sono stato a Bologna a presentare Betti lui mi diceva stanno perdendo copie nella crisi perché anche i libri sono in crisi proprio gli autori come volo come 50 sfumature perché è il lettore occasionale che o compra volo le 50 sfumature o se non ha più la possibilità economica di fare un piccolo sforzo per comprare un libro non compra più nessun libro senti fammi una compilation di brutture devo dire di questi tempi ne ho viste tante c'è solo l'imbalazzo della scelta c'è solo l'imbalazzo della scelta ma poi sai cos'è io non le finisco le brutture cioè se dopo 4 pagine io mi accorgo dopo 5 pagine se un libro funziona o no poi è inutile che ce la raccontiamo non è che lo annusi come dico io ma più o meno sì come diceva Giorgio Manganielli non l'ho letto e non mi piace esagerare però devo dire si capisce grazie